Benvenuti su NetTalk, il podcast dove esploriamo tutto ciò che riguarda la tecnologia, il software, internet e i pericoli della rete. Ogni settimana ci immergiamo nelle ultime novità del mondo digitale, discutiamo delle innovazioni più interessanti e sveliamo i rischi nascosti dietro la superficie scintillante del web. Dalle tendenze tech emergenti alle pratiche di sicurezza online, NetTalk è la tua guida definitiva nel vasto universo della rete. Ciao a tutti e benvenuti a una nuova immersione, oggi ci buttiamo a capofitto in un tema, diciamo un tema che ci tocca da vicino all'isolamento giovanile, un paradosso no, i ragazzi sono sempre online super connessi, pure si sentono sempre più soli. È già un paradosso davvero e non parliamo di una sensazione passeggera, gli studi mostrano un aumento preoccupante della solitudine tra i giovani. E non è una cosa da poco? No, no, per niente. Porta con sé una serie di conseguenze per la loro salute mentale, ansia, depressione e in alcuni casi anche autolesionismo. Roba forte. Allora, la domanda sordia spontanea. I social media sono la soluzione o il problema? Cioè da un lato facilitano i contatti ma dall'altro? Dall'altro danno un'idea di vicinanza che a volte è solo un'illusione. Sai, quelle chat di gruppo infinite non potranno mai sostituire una pizza con gli amici, una chiacchierata vera guardandosi negli occhi. Ha ragione. È proprio così. E poi c'è il confronto sociale. Ah, quella micidiale. Eh già. Pensiamo alle foto su Instagram. Vite perfette, viaggi, corpi scolpiti. Ricco ti guardi. E ti senti inadeguate. Esatto. E questo continuo bombardamento di immagini perfette mina l'autostima soprattutto negli adolescenti. Senza dimenticare poi il cyberbullismo. Vero. Quasi il 60% dei ragazzi ha subito molesti online. Una percentuale altissima. Eh sì. Quasi due ragazzi su tre. Un dato che fa davvero riflettere. E a proposito di social, sempre più spesso si parla di dipendenza da social media. Non è che questa dipendenza sia un sintomo di un malessere più profondo. Interessante come ipotesi. Potrebbe essere un modo per compensare la mancanza di connessioni reali. Ci si rifugia nel mondo virtuale per scappare della vita vera, per sentirsi accettati, per trovare un senso di appartenenza che forse manca. Certo, come quando dopo una giornata storta ti butti soldi vanno a scollare Instagram all'infinito. Esatto. In cerca di una via di fuga. Ma così facendo non si fa l'altro che peggiorare le cose, no? Eh no. Purtroppo no. La soluzione non è isolarsi ancora di più, ma affrontare il problema alla radice. E per farlo bisogna guardare oltre i social media. Giusto. Non possiamo dare tutta la colpa a Facebook o Instagram. Anche la scuola e la famiglia hanno la loro parte di responsabilità. Senza dubbio. A scuola la pressione per i voti, la competizione crea un ambiente stressante dove è difficile costruire rapporti veri. E poi il bullismo. Che sia online o offline. Esatto. Che contribuisce a isolare ancora di più le vittime. Ricordo un mio compagno delle media. Era pateso di mira da un gruppo di bulli. Lo insultavano, lo escludevano, gli facevano dispetti. Lui si chiuse in se stesso. Mi dice di parlare. Fu un prieto terribile per lui. Purtroppo sono situazioni più comuni di quello che si pensa. E anche in famiglia a volte si può creare un clima di isolamento. È vero. Se manca il dialogo, se i genitori sono troppo impegnati e non riescono a dare il giusto supporto emotivo, i ragazzi si sentono soli anche a casa loro. E già a volte anche in famiglia ci si sente soli. E allora che si fa? Come si può aiutare questi ragazzi che si sentono persi? Beh, non c'è una soluzione semplice. Serve un approccio su più fronti. Kipo. Cosa possiamo fare concretamente? Per esempio, educare i ragazzi a un uso consapevole dei social media. Insegnare loro a gestire il tempo online, a scegliere bene i contenuti, a non cadere nella trappola del confronto sociale. Imparare a usare i social in modo sano e responsabile. Esatto. Ma non basta, giusto? Servono anche altri interventi. Certo. Ad esempio, potenziare i servizi di supporto psicologico nelle scuole. I casi di ansia e depressione tra i giovani sono in aumento e avere uno specialista a cui rivolgersi può fare la differenza. Sono d'accordo. E poi non dimentichiamo il ruolo fondamentale della famiglia. Assolutamente. I genitori devono dedicare tempo di qualità ai figli, ascoltarli, incoraggiarli a parlare dei loro problemi e, perché no, organizzare attività che favoriscano l'incontro, la condivisione. Come una gita o una cena tutti insieme. Esatto. Piccoli gesti che rafforzano i legami e combattono la solitudine. Insomma, servono impegni da parte di tutti. Genitori, educatori, istituzioni. Solo così possiamo creare un ambiente più sano e supportivo per i nostri ragazzi. Per farlo dobbiamo partire da una consapevolezza. I giovani di oggi vivono in un mondo complesso, pieno di sfide e di opportunità. E noi abbiamo il dovere di aiutarli a orientarsi, a trovare la loro strada, a costruire un futuro sereno e pieno di significato. Bene, direi che abbiamo messo le basi per la nostra analisi. Sì. Ma c'è ancora molto da dire, vero? Assolutamente. Nella prossima puntata ci concentreremo su un aspetto specifico, la dipendenza da social media. Analizzeremo le cause e le conseguenze e cercheremo di capire come affrontarla. Perfetto. Allora, non perdete la prossima puntata. A presto. Grazie per aver ascoltato NetTalk. Rimani sintonizzato per il prossimo episodio, dove continueremo a esplorare il mondo affascinante della tecnologia, del software e dell'internet. Non dimenticare di seguirci sui nostri canali social e di iscriverti per ricevere tutte le ultime novità. Fino al prossimo episodio. Rimani connesso. Rimani sicuro.